Trento batte Civitanova in gara 3 e riapre la serie di semifinale play-off portandola a gara 4. Dunque giovedì 25 aprile si gioca all'Eurosuole Forum, si continua questa serie che porta verso la finale. Una partita incredibile quella della BLM Group Arena. Trento perde il primo set 25-23, vince il secondo 25-22. Poi ancora Civitanova avanti 26-24 e per la seconda volta Litas riesce a ricucire 25-23. Poi un'incredibile tie-break che la Lube apre meglio portandosi subito 10-7, poi 12-10. Lita si impatta, nulla una palla match e riesce a vincere il decisivo set di spareggio 16-14. MVP è Urosh Kovacevic, mette giù 26 punti, 54% in attacco, 3 muri punto e 2 ace. Ma grandi protagonisti sono davvero tutti gli uomini di Angelo Lorenzetti che schiera un po' tutti i giocatori a sua disposizione. Oreste Cavuto, grandissimo protagonista, così come Gabriele Nelli, a tratti anche Martin Van Garderen. Ma andiamo a sentire l'entusiasmo dei giocatori e dell'allenatore di Trento al termine di questa incredibile gara 3 del lunedì Pasquetta. Insomma i ragazzi hanno fatto tutto quello che devono fare, avevano detto che era una gara da interpretare un po' in determinato modo, ci avevano detto che dentro lo spogliatoio adesso le cose rimangono dentro, i ragazzi l'hanno fatto. Abbiamo tenuto testa alla bella squadra, una squadra forte con Cavuto, con Nelli, insomma abbiamo giocato abbastanza tutta la rosa e quindi sono contento. I ragazzi veramente hanno messo tutto oggi e veramente sono così orgoglioso che non sono stato mai così perché veramente non era facile. La gente non sa però non era facile.